Ormai sono passati i veicoli fermi ad un semaforo o i veicoli infornati oppure anche un veicolo che è fermato per far attraversare le persone, sia se queste attraversano le strisce pedonali perché voi sapete che noi per attraversare la strada dobbiamo dubbire delle strisce pedonali sapete questo qua, però può succedere alcune volte che diciamo l'anno subiamo arrivato giù e attraversiamo in mezzo alla strada quindi c'è il conducente che si ferma e ci fa passare o dall'altro lato no oppure gli altri veicoli prendono il suo passo quindi è una cosa assolutamente pietata, puoi investire le persone certo anche se la persona ha sbagliato ad attraversare il livello e se c'erano le strisce pedonali delle vicinanze dovevo costruire delle strisce pedonali, comunque sia tu hai sempre investito una persona